Il Rossini Opera Festival toglie i veli al programma della sua 43esima edizione. Annunciato oggi nel comune di Pesaro, il cartellone che aprirà il sipario il 9 agosto alla Vitri Frigorena con le Comtori, che è una delle due nuove produzioni assieme ad Otello in scena nella stessa arena dall'11 agosto. Il teatro Rossini debutterà il 10 agosto con la ripresa della Gazzetta e poi ancora sette concerti, il viaggio a Reims dell'Accademia Rossiniana Alberto Zedda per un totale di 23 spettacoli che si concluderanno il 21 agosto con tra rondò e tournedò il galà celebrativo dei 40 anni di Pierluigi Pizzi al ROF. Con la pandemia si erano spostate diversi progetti ma l'edizione del 2022 era rimasta tale e quale a come si era pensata diversi anni fa. Cose precedenti tipo l'edizione del 2021 è stata spostata al 2023. Un'edizione che cambia un po' l'abitudine che si era avuta fino a poco fa. L'anno scorso, nel 2021, abbiamo presentato dei titoli che si erano visti una volta sola qui al ROF. Invece per il 2022 abbiamo tre titoli che si sono visti qualcuno, quattro e anche cinque volte qui al ROF. Sono titoli molto conosciuti da tutti quanti. Il Comptorì che prevede il ritorno in opera di Juan Diego Flores, fresco della nomina direttore artistico. e Otello con la presenza di Sergei Romanoschi come protagonista e la gazzetta che è stata fatta qualche anno fa. Programma veramente denso e importante per un'edizione che crediamo sia quella della completa rinascita, speriamo dopo le difficoltà date dal periodo del Covid, soprattutto speriamo che sia quella a cui sarà consentito partecipare dal pubblico del resto del mondo, soprattutto da Giappone e Stati Uniti che sono tra i principali, il terzo e il quarto pubblico del festival che in questi anni purtroppo hanno dovuto accontentarsi di alcune trasmissioni in streaming ma che invece ci chiedono sempre con una certa ansia di riuscire e sperare di poter tornare. In generale appunto un programma di altissimo livello e verrà anticipato anche da questa novità e da qualche anno come sapete anche per il compleanno di Rossini o non compleanno a seconda degli anni più o meno bisestili mettiamo in piedi delle produzioni originali normalmente anche con l'orchestra del conservatorio, quest'anno con l'orchestra sinfonica Rossini ci sarà un Tancredi in forma di concerto con un cast veramente importante a ridosso del compleanno di Rossini, quindi fine febbraio. Sarà anche un'edizione molto speciale per Cristian della Chiara, recentemente nominato nuovo direttore generale del festival. L'ennesimo festival, ne ho stati tanti, ma questa con una nuova veste che mi riempie di orgoglio ma anche di tante responsabilità. Mi sento sicuramente rassicurato dal fatto di avere uno staff molto forte, molto consolidato e di avere alla guida di questo festival credo i più grandi che potessimo avere il maestro Palazzo e anche il nuovo arrivato in questa funzione Juan Diego Flores, quindi diciamo un esordio importante di responsabilità ma anche con le spalle ben coperte.